Buongiorno dalla redazione di Udinese TV, apriamo con la cronaca in questa edizione del nostro Tg con un incidente mortale purtroppo avvenuto questa mattina in autostrada in A4 nel tratto tra San Stino di Livenza e Porto Gruaro in direzione Trieste. C'è stato un tamponamento attorno alle 7.30, un furgone ha tamponato un camion a seguito dell'incidente, appunto come detto una persona ha perso la vita. Il tratto di autostrada interessato dall'incidente è rimasto chiuso per alcune ore, a metà mattinata è stato riaperto e la circolazione è ripresa regolarmente. E sempre per quanto riguarda la cronaca, questa mattina i vigili del fuoco di Pordenone sono intervenuti per un incendio che ha interessato la canna fumaria di un'abitazione di due piani in via Bosco di Cecchini, a Cecchini di Pasiano di Pordenone. Le fiamme sono state rapidamente estinte, hanno interessato solo la parte terminale, la parte superiore del camino senza intaccare la copertura in legno dell'abitazione che non ha riportato danni importanti alla struttura. Fortunatamente non ci sono stati feriti. Dopo questa prima parte dedicata agli aggiornamenti di cronaca, apriamo subito i collegamenti con le nostre troupe esterne di oggi. Abbiamo in collegamento da Sanremo il Poma, Alessandro Pomare, nostro inviato per seguire il settantesimo festival della canzone italiana. E allora subito la linea a Sanremo. Buongiorno Alessandro. Allora, non abbiamo il Poma, adesso la regia mi mostra invece le immagini della nostra Francesca Santoro. Vediamo se riusciamo a collegarci con la nostra truppa esterna, con la nostra Francesca Santoro, per parlare allora di un'altra notizia del giorno, perché oggi si celebra la giornata nazionale contro lo spreco alimentare. Nelle nostre cucine si spreca molto cibo e la giornata di oggi è un'occasione per richiamare l'attenzione sui giusti comportamenti da tenere. Subito da Francesca Santoro con il professor Marangoni dell'Università di Udine, che da diversi anni è impegnato proprio sul fronte della ricerca contro lo spreco alimentare. A voi Francesca. Sì, buongiorno Angela, siamo con Francesco Marangoni, delegato del Rettore dell'Università di Udine per la sostenibilità. Parliamo di spreco alimentare perché oggi è la giornata dedicata appunto al contrasto dello spreco alimentare. Cosa si intende per spreco alimentare e a che punto siamo? Lo spreco alimentare è il modo con cui noi buttiamo via, facciamo diventare rifiuto un prodotto che poteva essere invece destinato alla nostra alimentazione o come bevanda e che quindi ha avuto un destino che non era quello che avevamo previsto, spendendo i soldi per acquistare questi prodotti. Lo spreco alimentare, secondo i dati più recenti del West Watcher, così si chiama l'esperienza dell'Università di Bologna, che segue questo fenomeno, ha misurato un calo dello spreco nelle famiglie italiane, quella è una delle fasi su cui si guarda con maggior attenzione il fenomeno, passando, perché lo misuriamo in euro, da circa 6,6 euro a famiglia alla settimana a 4,9. Quindi un risparmio che complessivamente, pensate, nelle famiglie italiane, significa 1,5 miliardi di euro in meno di spreco alimentare. Direi una bella notizia che possiamo dare in questa settima giornata. A cosa si deve lo spreco alimentare? Compriamo più di quello che effettivamente consumiamo? Se pensiamo allo spreco che avviene nelle nostre famiglie, nelle nostre case, quindi, uno dei momenti sicuramente che possono maggiormente condizionare il fatto che buttiamo via del cibo è proprio l'errore nell'acquisto, acquisti frettolosi, acquisti non ragionati, acquisti, diciamo, condizionati e influenzati da mode o da momenti di pubblicità o da aspetti che succedono magari proprio mentre stiamo lì con il carrello e veniamo influenzati da varie informazioni che ci arrivano. Invece è un suggerimento molto importante che si dà da tempo, in questo decalogo che viene dato alle famiglie per l'acquisto intelligente, è proprio quello di fare la lista della spesa, scegliere le cose che si sa potranno servire, pensarci per tempo, non sempre è possibile, ma provare il più possibile a fare questo genere di ragionamenti, perché altrimenti poi ci troviamo, come ho scoperto in una recentissima indagine fatta in un paese del Goriziano, dove ho fatto compilare i registri settimanali dello spreco, che la maggior parte del cibo che buttiamo è perché o è avariato o è scaduto. Questo è chiaro che è un elemento che fa capire che c'è stato un momento di acquisto poco attento. Tra le iniziative che portate avanti ce n'è una che è dedicata alle mense scolastiche e universitarie. Questo è anche un altro importante momento, quella della cosiddetta ristorazione collettiva. In una ricerca gestita assieme all'Università di Bologna e quella della Tuscia, abbiamo studiato il fenomeno nelle mense scolastiche, in 18 mense scolastiche del Friuli Venezia Giulia, andando a lavorare con i ragazzi e le ragazze, i bambini e le bambine, proprio nel misurare lo spreco. E si sono dimostrati molto più virtuosi delle altre realtà che abbiamo studiato, in Emilia Romagna e in Lazio. Quindi sprecano circa il 17% di quel 500 grammi che arriva nel loro piatto. Ancora più recentemente abbiamo fatto anche uno studio presso gli studenti che frequentano una delle mense universitarie dell'Università di Udine. E io come delegato alla sostenibilità di questo appeneo sono molto contento di studiare questo fenomeno. Che cosa emerge in questo caso? Che è molto importante la quantità di cibo che viene proposta da chi consegna il piatto, i piatti agli studenti e alle studentesse, ma anche la presentazione, la preparazione. Un'altra cosa poi molto interessante, che soprattutto in noi friulani, ma direi in Italia, è abbastanza poco diffusa ed è quella di chiedere il cosiddetto doggy bag. Non so se questa espressione l'avete già sentita. Cioè farsi dare, quando avanza qualcosa, pensate alla classica pezzo di pizza in pizzeria, no? Farsi dare il cartone o la scatole, sono sempre più carine anche, per portare a casa il cibo. Perché questo è un contributo importante. Dopotutto l'abbiamo pagato e evitare che venga sprecato una cosa che può essere ancora consumata è decisamente un buon comportamento volto alla sostenibilità. Grazie allora Francesco Marangonna anche per questi consigli. A te Angela. Grazie, grazie a Francesca Santoro e alla nostra troupe esterna. Adesso torniamo alla cronaca cittadina e parliamo delle dimissioni presentate dal presidente del Consiglio di quartiere Udine Est di Giusto, Stefano Salmè, che ha presentato le proprie dimissioni in polemica con l'amministrazione comunale sulle scelte in tema di raccolta dei rifiuti. L'assenza dei due assessori competenti invitati, l'assessore all'ambiente Olivotto e l'assessore ai quartieri Falcone o di eventuali loro delegati al Consiglio di quartiere di ieri sera, si legge in una nota di Salmè, Consiglio di quartiere che discuteva di temi importanti per la vita quotidiana dei cittadini è il segno più evidente del totale disinteresse di questa amministrazione nei confronti di Udine Est e del quartiere di Giusto. In una nota Salmè rimarca anche il fatto che manca ancora la formalizzazione da parte del Comune dello stop alla realizzazione di una grande piazzola ecologica a pochi metri da scuole e chiesa, prevista inizialmente. critiche anche all'esperimento annunciato dal Comune di conservare nella zona del Pep Est i cassonetti su strada. Quando tutti i quartieri della città avranno quindi adottato il porta a porta, sottolinea Salmè, questo rimarrà l'unico rione a conservare i cassonetti di strada con il risultato certo di divenire il ricettacolo del cosiddetto turismo dei rifiuti. Una sorta di discarica potenziale per i troppi civili impuniti. Andiamo a Premariacco adesso. Butrio e Premariacco sciolgono la convenzione per la gestione associata dell'ufficio di segreteria comunale stipulata nell'ottobre 2010 anche con il Comune di Martignacco. A Butrio la sinergia termina qui, si legge in una nota del Comune. Purtroppo ormai da anni si registra la carenza cronica di un numero adeguato di segretari comunali. In regione ne mancano una sessantina, spiega l'assessore al personale Tiziano Venturini, già sindaco che stipulò ai tempi l'accordo con l'ex primo cittadino di Premariacco, Rocco Ieracitano. L'istituto della convenzione quindi risulta l'unica forma percorribile per i piccoli e medi comuni per poter garantire un servizio necessario per il funzionamento dell'ente. Nel Consiglio Comunale straordinario del 7 febbraio, si legge ancora nella nota, si delibererà di sciogliere la convenzione con il Comune di Premariacco e di sottoscriverne una nuova con il Comune di Pasian di Prato. Un sentito ringraziamento al Dottor Stefano Soramelle Chiude Venturini per l'impegno profuso e la professionalità dimostrata in questi anni a favore della comunità di Buttrio. E torniamo adesso sulla notizia al centro dell'attenzione in tutto il mondo in questi giorni, ovvero l'emergenza coronavirus. Un'emergenza, un'epidemia che corre anche sul web, sui social network. Forse troppe volte la rete viene utilizzata anche per diffondere delle notizie non vere, le cosiddette fake news, anche sul coronavirus. E anche su questo fronte le istituzioni si stanno attrezzando. Andiamo a sentire il servizio realizzato dall'Ansa. L'Organizzazione Mondiale della Sanità l'ha definita infodemia una sovrabbondanza di informazioni anche false sul coronavirus. Valte Ricciardi, ex presidente dell'Istituto Superiore di Sanità e Ordinario di Igiene dell'Università Cattolica di Roma, ha parlato di prima epidemia ai tempi dei social. Le fake news sul virus sono tante e contribuiscono a generare preoccupazione con Internet che fa da moltiplicatore. Pochi giorni fa Facebook si è impegnato a rimuovere i post che diffondono disinformazione. Twitter ha stretto un accordo con il Ministero della Salute italiano. Ogni volta che sulle microblog, dove nelle ultime settimane sono stati pubblicati oltre 15 milioni di tweet sull'argomento, si cercheranno informazioni sul coronavirus, un messaggio Twitter rimanderà al sito del Ministero per fare emergere contenuti sempre corretti e attendibili su un tema ancora in via di sviluppo. L'iniziativa è stata introdotta in numerosi paesi del mondo. Siamo al lavoro ogni giorno anche per offrire notizie accurate e tempestive ai cittadini, ha detto il Ministro della Salute Roberto Speranza, sottolineando che questa iniziativa è un aiuto in più contro un pericoloso virus. Le false notizie. E adesso siamo pronti per andare a Sanremo dal nostro inviato. Ci diamo subito la linea a te Alessandro. Buongiorno a tutti, sono in Piazza Colombo. Come potete vedere c'è questo super palco, il Nutella Stage, un palco veramente dolce e dolce. Sono con l'ospite, qui con Francesco Randazzo, direttamente di Radio Rai. Francesco, Sanremo è partita subito col botto e meno male che nessuno voleva vederla. E funziona sempre così dalle nostre parti in Italia. Più le cose vai a denigrarle, più invece suscitano curiosità e interesse. Quindi partenza col botto sicuramente. Ricordiamo i quasi 13 milioni di spettatori. E poi la cosa molto molto importante è che nella seconda parte ci sono stati 10 milioni e mezzo di italiani incollati davanti agli schermi per guardare questo festival, il festival un pochettino delle polemiche. Sì, perché adesso funziona al contrario, noi italiani amiamo divertirci la sera tardi, di notte, quindi entriamo a carburare nella seconda parte, dalle 22-23 in poi, è vero. E comunque Baglioni sta già male, secondo me Baglioni, visto che la seconda parte è stata raddoppiata, quindi chissà cosa farà adesso Baglioni. Non lo so, continuerà a scrivere canzoni, a fare tour. Io posso dire una cosa, posso fare la mia classifica speciale? Devi farla, devi farla. La mia classifica speciale, il mio podio, metto al primo posto il maestro Peppe Vesticchio, perché è ritornato in una maniera incredibile, un'ovazione micidiale. Devo dire che mi ha colpito e sorpreso Raffael Gualazzi, che è arrivato tra l'altro tardissimo, e quindi questo è importante, e poi le vibrazioni secondo me ci daranno grande soddisfazione, non a caso in questo momento sono qui dietro di noi che stanno parlando. Questa è la mia classifica speciale, due più un intruso. Infatti sono in direttissima con Luca ed Andrea, ecco, perché siamo in diretta Rai, Radio 2, e insomma amici di Udinese TV, rimanete sempre con noi perché vi racconteremo anche oggi una giornata strepitosa, anche perché questa sera ci saranno gli altri 12 big, ci saranno tante sorprese, come diceva Amadeus già dall'inizio, sarà il festival imprevedibile, molto imprevedibile, grazie anche a Rosario però, eh? Assolutamente sì, una coppia di mattatori micidiani, delle bellezze fantastiche, diletta Leotta che ha fatto vedere quello che sarà il futuro suo, ma noi la preferiamo nel 2020 chiaramente, niente, grosse sorprese, secondo me ancora il meglio deve arrivare. Il meglio deve ancora arrivare, e poi c'è stato questo messaggio molto bello, Viva le donne, e possiamo dirvi una cosa, rimanete sempre sintonizzati su Udinese TV, perché vi racconteremo e vi faremo scoprire veramente delle cose uniche, dopo andremo a trovare anche il nostro amico Francesco sul suo track, allestito proprio per l'evento più bello del mondo, possiamo dirlo, perché il festival di Saremo è l'evento più bello del mondo. Sì, però ricordiamo che Udinese TV la guardi anche tu. Bravo Francesco, a voi studio. E allora ci rivediamo più tardi con il Poma e con tutti gli ospiti da Sanremo, adesso andiamo alla Dacia Arena dove c'è Jacopo Romeo per tutti gli aggiornamenti sull'Udinese, non solo, buongiorno Jacopo. Buongiorno, buongiorno a te Angela, un saluto anche a tutti i nostri amici da casa. Partiamo con una notizia, tra virgolette, in anteprima, perché domani mattina alle ore 10, proprio qui in questa sala stampa, ci sarà la presentazione ufficiale dei due nuovi acquisti del mercato di riparazione dell'Udinese, Marvin Siklar, un ritorno per lui, e Sebastian Proedel, ufficializzato proprio dal pomeriggio di ieri, come nuovo giocatore bianconero, per lui un contratto sino al 2021. Ascolteremo le parole loro e dei due direttori, Franco Collavino e Pierpaolo Marino. Dunque appuntamento per domani mattina alle ore 10. mentre l'appuntamento per la ripresa dei lavori dell'Udinese, Angela, è quest'oggi al pomeriggio, allenamento pomeridiano alle 15, ieri il giorno di riposo. La squadra si ritroverà qui a mezzogiorno, tra poco per il pranzo, e poi inizierà a calarsi nella prima vera seduta della settimana dopo lo scarico di lunedì post-Inter, per una partita contro un Brescia che sta cambiando allenatore, perché secondo esonero di Eugenio Corini, decisione maturata nella serata di ieri da parte del presidente Cellino, sempre vulcanico, e in panchina arriverà e troveremo domenica ad avversario un suo fedelissimo, Diego Lopez. L'aveva già chiamato al Cagliari quando era presidente del Cagliari, è stato per oltre 10 anni un giocatore del Cagliari sotto la gestione Cellino, adesso gli dà un'opportunità, un'occasione per allenare in Serie A, dove Lopez, dire il vero, è in Sardegna, e a Palermo non ha un curriculum positivo, mettiamola in questo modo. Vedremo che Brescia li troveremo di fronte con la spada di Damocle e Balotelli che torna alla squalifica, statisticamente ci ha sempre fatto male, ma insomma non bisogna pensare alla cabala, bisogna pensare a preparare la partita, come lo vedremo e lo capiremo da questi giorni, ma la sensazione è che non ci si andrà a discostare tanto dall'undici che abbiamo visto in campo contro l'Inter, con al massimo un paio di accorgimenti. Ma parlai di questo, è prematuro, vedremo già cosa dire al campo questo pomeriggio. Grazie Jacopo, approfitto di te ancora un attimo per fare un passaggio veloce anche sulla pallacanestro Udine, che questa sera giocherà a turno infrasettimanale di campionato per l'Old Wild West, di scena a Imola. Sì, è così, la squadra è in salute, vive un momento positivo, ha vinto una partita importante trasferta a Montegranaro, ha battuto in casa la capolista Ravenna, ed allora bisogna cercare il tris, contro una squadra, diciamo, modesta, ma che in casa sa essere temibile. L'andata non ci fu storia, 104-72 al Carnera, per la squadra di Coach Ramai, un Coach Ramai che però Angela, come sempre, è alle prese con le ataviche problematiche legate agli infortuni, anche questa sera saranno out, sia a Gazzotti alle prese con una fascite plantare alquanto fastidiosa, che a Gustin Fabi fuori a tempo determinato per questo riacutizzarsi del problema alla schiena. Dunque, antenne dritte, perché comunque in trasferta non è mai facile, un impegno è ravvicinato, se con la trasferta consecutiva, e poi devi fare a meno i due pedine molto, molto importanti nelle rotazioni, ed hai comunque un penna che è rientrato da poco e che gioco forza, non può essere al top della condizione. Però vedremo cosa succederà, e lo vedremo naturalmente in diretta questa sera, qui su Ginese TV. Grazie, grazie Jacopo. Noi siamo in chiusura, allora vi lascio alle previsioni del tempo a cura dell'Osmer Arpa. Ci rivediamo più tardi, alle 12. Buongiorno, per quanto riguarda il tempo, abbiamo l'afflusso di aria fredda in quota, al momento anche un po' umida, da cui una novolosità abbastanza consistente in montagna, che dà luogo qualche spruzzata di neve locale, qua e là, nulla di particolare, però appunto, come abbiamo visto, c'è qua e là un po' di nevischio. Temperature sono piuttosto basse, con valore intorno ai meno 8, questa mattina Zoncolan e Lussari, e venti forti. Per quanto riguarda invece pianura e costa, cielo poco nuvoloso o variabile, l'aria è più secca, ci sarà vento. Per domani un miglioramento, perché il vento sostanzialmente cesserà, avremo cielo in genere poco nuvoloso, una giornata che vedrà delle giornate notturne a partire appunto nella notte, primo mattino, valori sotto zero in pianura e ovviamente anche nel fondo valle di montagna, poi in giornata un cielo in genere poco nuvoloso, giornata più tranquilla, perché non ci sarà più questo vento. Temperature massime di domani intorno agli 8-9 gradi, poi bel tempo lo avremo anche nei giorni successivi, sempre con le gelate notturne nelle valli e in pianura, ma senza venti significativi, quindi il tempo si tranquillizza andando verso il weekend e almeno sostanzialmente fino a sabato, avremo cielo sereno poco nuvoloso, con solo le gelate notturne appunto tipiche nei fondovalle e anche in pianura. Temperature ovviamente più alte sulla costa, il mare continua ad essere eccezionalmente caldo, siamo almeno due gradi più caldi della norma per quanto riguarda il mare.